segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te noi torna alessandro cecchi paone grande giornalista divulgatore una persona che è dentro la modernità e la contemporaneità e nulla lo ferma tu però caro alessandro avresti bisogno di un armo cromista secondo me ho capito non ti piace la giacca va bene no secondo me il tutto insieme forse come diceva un grande architetto ben tornato l'abbiamo lasciato in